Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino delle 7.30 in diretta, naturalmente salutiamo tutti gli altri che ci seguono in replica. Allora subito il santo del giorno, oggi è un santo che si chiama San Macario il Grande, parliamo di un abate del 300, quindi dobbiamo andare molto molto indietro nel tempo, viene chiamato il Grande o l'Egiziano per distinguerlo dal suo omonimo contemporaneo Macario di Alessandria e nacque appunto verso il 300 nella regione del delta del Nilo, da giovane faceva il cammeliere. Ok, il sole sorto alle 7.36 tramonterà un minuto dopo le 5 di oggi pomeriggio, vediamo il tempo, però andiamo un attimo sul nostro sito occhioallanotizia.it, vedete intanto questa è la prima pagina con in evidenza in primo piano l'albergo in fiamme a Pesaro, ieri siamo stati primi a dare la notizia, a pubblicare già le fotografie che c'erano arrivate proprio mentre ancora c'erano le fiamme alte in cielo. Ecco, volevo farvi vedere come entrare invece nella pagina del nostro osservatorio metodo, se scendete in giù in basso nel nostro sito, qui siamo in fondo alla pagina dell'home page del nostro sito internet, vedete c'è scritto clicca qui sulla destra e se voi ci cliccate, ecco si apre la pagina del nostro osservatorio dove avrete tutte le indicazioni in tempo reale del tempo che sta facendo in questo momento a Fano, quindi sulla costa. Vedete in evidenza subito colpisce questo meno 3.3 che è la temperatura attuale qui a Fano, molto freddo, la temperatura delle 7.31, per il resto vedete non c'è vento, non c'è neanche pioggia, poi di qua vedete la fotografia, l'immagine della webcam, l'abbiamo già vista un po' che non la riguardiamo, la webcam che punta su Rosciano di Fano e del Campanile, si intravede il Codma e un cielo che si sta illuminando con i primi raggi del sole. Andiamo invece a vedere velocemente le previsioni per oggi e per i prossimi giorni, oggi vedete martedì 19 gennaio avremo un cielo nuvoloso con temperature in lieve aumento, quelle massime in diminuzione le minime, mercoledì domani cielo ancora nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio, le temperature in aumento, attenzione alle gelate e poi vedete giovedì ancora nuvole un po' più consistenti, non si escludono deboli precipitazioni anche nevose al di sopra dei 900 millimetri con temperature in ulteriore, in aumento nei valori minimi. Probabile tempo stabile invece sulle Marche nelle giornate di venerdì e sabato. Per quanto riguarda le notizie, due sono quelle su cui si sono concentrati i giornali nella giornata di oggi. Dal punto di vista della sanità, ieri c'è stato un incontro monotematico in Consiglio Comunale a Fano dove ha partecipato anche il Presidente della Regione Ceriscioli, un appuntamento atteso, parliamo di sanità bollente ormai giornalisticamente parlando da diverso tempo. Ieri dunque c'è stato questo importante Consiglio Comunale dove molti si aspettavano per esempio di capire qualcosa in più su questo nuovo ospedale unico, si farà o non si farà, dove si farà soprattutto. In realtà mi pare che da quello che si è letto, si è sentito anche dalla nostra corrispondenza ieri in diretta dal Consiglio, insomma tante parole ma di fatto non si è presa nessuna decisione, nulla di nuovo vorrebbe da dire sotto il sole. Poi l'altra notizia invece di cronica riguarda l'incendio all'hotel cruiser di Pesaro. Allora cominciamo dalla sanità e andiamo sulla pagina del resto del Carlino, vediamo come trattano questo argomento i tre quotidiani. Cominciamo dalla pagina 2 del Carlino, dicevo, avanti tutta con Marche Nord. Marche Nord è l'azienda che quando è stata fondata a suo tempo aveva l'obiettivo appunto di creare questo ospedale unico. Sono passati anni ma di questo ospedale c'è solo un disegno sulla carta, per il resto i soldi non ci sono. Ma sui soldi guardate cosa dice il Presidente Ceriscioli, la Regione per i progetti strategici i finanziamenti li trova e non solo. Dice anche dell'altro che tra un po' vedremo. Intanto linea dura del Governatore che però si smarca su Chiaruccia. Chiaruccia è l'area all'uscita di Fano Sud della superstrada nella quale il Sindaco Seri ha puntato e sta puntando da un po' di tempo. Mi aspettavo, dice ancora il Governatore però, mi aspettavo che a scegliere il luogo dove costruire questo ospedale fossero le amministrazioni di Pesaro e Fano. In ogni caso si seguirà un percorso di chiarezza e trasparenza visto che questa decisione di dove costruirlo e questa indicazione soprattutto non è arrivata. Nessun cenno a Chiaruccia su cui ha insistito invece il Sindaco Seri che ha fatto un intervento chiaro, incisivo con un pizzico di cattiveria, scrive la Marchetti questa materia sul Carlino e senza sconti per nessuno, tanto da ottenere almeno per la parte relativa al Santa Croce il riconoscimento anche del Movimento a 5 Stelle. Questo è il resto del Carlino che ha anche un'altra pagina che noi questa mattina però non leggiamo per motivi di spazio, quindi due pagine questa mattina sull'argomento. Poi invece il messaggero, il messaggero scrive ospedale muro contro muro tra il Sindaco e il Governatore, un dibattito animato in Consiglio ma le contestazioni non ci sono state, anche se la sala va detto era gremita, forse riuscite a vederla da questa fotografia, una sala che tra l'altro non è neanche grande, però insomma è una sala che ieri era gremita non solo da operatori della sanità ma anche da semplici cittadini. Ceriscioli, ecco qui la dichiarazione di cui facevo accenno all'inizio, mi fa sorridere chi dice che i soldi per il nuovo ospedale non ci siano, dice Ceriscioli. Poi anche l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi è d'accordo con il successore, l'analisi del sindaco Massimo Seri è reale, ha detto Guzzi, un documento così forte sulla sanità merita di essere condiviso, ha detto Guzzi della lista La Tua Fano. Non mi è piaciuto però, aggiunge l'ex sindaco, il silenzio di Seri in questo anno e mezzo di mandato, per me avrebbe dovuto battere i pugni sul tavolo e farsi sentire di più. Il Corriere Adriatico invece, Marche Nord, strategica, quindi come azienda, presto l'ospedale. Ceriscioli ribadisce l'urgenza di azienda in osocomio unico, scelte rinviate alla conferenza dei sindaci. Attenzione però perché Lorenzo Furlani sul Corriere fa un'analisi dettagliata e in più io mi limito, chiaramente soltanto a questo piccolo brano del suo pezzo, nel dettaglio Ceriscioli non è sceso, deludendo quanti si aspettavano indicazioni chiare su modalità e tempi. E tra chi scalpita c'è proprio il principale interlocutore, ovvero il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che attenzione, negli ultimi mesi ha taciuto di fronte alle fibrillazioni fanesi, ma che proprio oggi, questa mattina, proprio tra poco, ha annunciato una conferenza stampa e quindi comunicazioni sul tema. Il Presidente della Regione smussa i punti d'attrito e garantisce risorse proprie, mentre ha mostrato freddezza sul sito di Chiaruccia, che come abbiamo già detto, sul quale punta molto, ha puntato molto anche nel discorso, nella relazione del sindaco di Fano. Santa Croce invece, Santa Croce depotenziato l'ospedale per 130.000 cittadini, il primo cittadino lamenta la mancata realizzazione dell'atto aziendale sull'integrazione con Pesaro. Allora, sin qui l'argomento che riguarda la conferenza, quello che c'è stato, il consiglio monotematico di ieri. Ma vedrete, anzi, lo facciamo subito, andiamo sulla pagina ancora del Corriere Adriatico, quella di Peso Rubino, perché il problema della sanità non riguarda solo l'ospedale unico, ma c'è tanta fibrillazione, c'è tanta amarezza anche all'interno, negli ospedali dell'entroterra che hanno subito tutta questa rivoluzione. Valutiamo l'ipotesi di un esposto. Ancora tensioni a Cagli e a Sasso Corvario. Il primo soccorso resta aperto solo 12 ore, non 24, come si era detto. Gambini convoca il sindaco di Urbino la cittadinanza domani sera per fare il punto sugli ultimi accadimenti. E la protesta del cittadino di Urbino nel corso della conferenza dei sindaci di area vasta di sabato, la vedete in questa fotografia. Dicevamo la cronaca. Allora, la cronaca ci porta all'incendio dell'hotel Cruiser. Allora, andiamo sul Corriere di Pesaro, eccolo qua, incendio sul tetto dell'hotel Cruiser, le fiamme sono state alimentate dal vento, hanno prodotto un denso fumo nero, evacuati gli ospiti, ma nessuno è rimasto per fortuna intossicato. Vedete qui alcuni scatti delle operazioni di spegnimento del fuoco, delle fiamme che sono divampate sulla terrazza dove erano sistemati appunto questi condizionatori. Tanto per capire, insomma, quelle ventole che si mettono fuori, che si vedono spesso anche brutte, ma fuori dai locali, che servono appunto per alimentare i condizionatori poi che stanno dentro. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Municipale, il 118, presenti anche il questore e il comandante della Capitaneria, il rogo originato da un cortocircuito all'impianto di condizionamento all'esterno dell'edificio. Poi le assunzioni invece, siamo sempre sul Corriere, dopo anni torna il saldo positivo. Questa è una bella notizia che dà speranza, poi qualcuno certamente sbatterà il pugno sul tavolo un po' arrabbiato e dirà ma cosa stai dicendo? Io mi limito a leggere quelli che sono i dati che arrivano, i dati parlano nel 2014, adesso di mille contratti di lavoro in più rispetto al 2014, non all'anno scorso. Quindi sono dati del 2015 riferiti all'anno prima, al 2014, ma si tratta quasi sempre di regolarizzazione e non di occupazione ex novo. La maggioranza degli ingaggi riguarda gli uomini, per le donne il mercato occupazionale resta ancora difficile. Questa è la pagina del Corriere. Poi andiamo e torniamo sulla pagina di Fano invece del Corriere. Alimenti gratuiti al Codma di Rosciano. Distribuzione oggi e domani è un servizio per 3.000 persone, la Caritas sta andando un po' in affanno, però è una, evidentemente è un'operazione che va, che serve, che è necessaria in questo momento. Poi di solidarietà si parla anche qua a fianco con Teleton che ha raccolto, come fa ogni anno da 10 anni, grazie ai volontari, 23.000 euro. Dalle pagine interne dell'entroterra, a Cartoceto, Rossi firma, il sindaco Enrico Rossi firma tre ordinanze contro l'amianto, verifiche sulle coperture di alcuni capanni, partono le analisi chimiche e fisiche per stabilire la presenza di asbesto. Poi strade sicure e transitabili, finite le nuove asfaltature San Giorgio di Pesero, ma resta il problema di via Spicello. In piazza invece, siamo sulla pagina di Senigallia, in piazza le famiglie no gender, manifestazione contro le adozioni omosex e unioni civili, un libro in biblioteca finisce nel mirino e c'è questa iniziativa, le sentinelle in piedi che si ritroveranno alle 16.30 per una veglia in piazza Roma che si preannuncia blindata, tra l'altro con uno schieramento già predisposto della polizia aperta anche ai musulmani, a chi professa religioni diverse da quella cattolica e anche dagli atei e a tutti coloro che si riconoscono nella famiglia generata da un uomo e da una donna. E adesso ritorniamo sul resto del Carlino. Per la cronaca ladri gettano una cassaforte dal terzo piano, poi la caricano su un furgone e spariscono. Il colpo è stato messo a segno a Vismara, all'ora di cena i proprietari erano fuori. Per arrivare all'appartamento sono saliti scalando il pluviale, il bottino supera i 10.000 euro. È morto Livio Zenobi, l'uomo del vino e dell'olio. Se n'è andato a 89 anni, oggi l'ultimo saluto nella chiesa di Cristo Re a Pesaro. Nel 1960 la prima osteria, poi la mattina sotto il conservatorio e infine il negozio in via Colbe. Sempre dal Carlino, da Fano, la prima pagina sul caso Cecchi, Cecchi è l'istituto agrario. Il caso Cecchi finisce in consiglio regionale e Carloni tenta la carta dell'emendamento. Si vuole correggere la delibera congelata per l'istituto Battisti. La programmazione scolastica è stata bloccata per evitare gli accorpamenti. E questa è la pagina di Fano del resto del carino. Sul carnevale invece, carnevale senza bighe, non bastano le wings, le fatine. Delusi i fan della Fano dei Cesari, considerata sotto tono anche la sfilata dei carri estiva. Aspettando il festival, il bordetto sale sul carro, l'anticipazione, un evento, l'evento è a settembre. Adesso invece la pagina interna che riguarda la Valle del Cesano e non solo la Valle del Cesano, anche la Valle del Metauro, come in questo caso, dove il sindaco Enrico Rossi di Cartoceto mostra la voragine aperta nel centro storico del paese. Sette mesi per chiuderla. Riapertura prevista a febbraio per via Umberto I. Il punto sui lavori dopo il crollo a luglio. Il sindaco dice che finora sono stati utilizzati fondi del bilancio comunale ma la Regione deve aiutarci. E poi a Orciano di Pesero, un cittadino scrive al sindaco e al parroco. Strisce, pedonali, fantasma vicino alla chiesa. Chiudiamo con il messaggero. In prima pagina vedete questa foto del rogo all'ultimo piano del cruiser. L'albergo è stato evacuato e c'è stata anche tanta paura, però per fortuna dicevamo nessun ferito, nessun intossicato. Il freddo invece dà tregua. Qui avete le previsioni del tempo del meteorologo del messaggero. Poi fiera, la fiera di Pesero. Pronto il bando per cercare il nuovo gestore. Drudi, presidente della Camera di Commercio, annuncia anche l'intenzione di uscire dall'aeroporto fanese. Le pagine interne. Spese pazze in Regione. La Procura è costretta a correggersi assessori sulla graticola. Il giudice ordina. Capi di imputazione più precisi. Solo tra quattro mesi dunque la decisione su Pieroni e Sciapichetti. A difendere i 66 sotto inchiesta i big dell'avvocatura. Da Calvi a Scaloni alla Magistrelli a Gamberini. E poi altre notizie che potrete leggere sul quotidiano con l'inserto di Pesero che riguarda anche la regione e la politica regionale. Anche qui vedete all'ultimo piano il rogo dell'hotel Cruze con tanto di fotografie. Poi Santa Marta. Presto pronti i laboratori. L'open day diventa la festa della rinascita. Sapete benissimo che il Santa Marta dove si sfornano i cuochi, gli chef, i futuri chef, i futuri barman eccetera eccetera. Santa Marta ha avuto dei problemi con il controsoffitto. Ci sono i lavori in corso ormai da diversi mesi. Intanto gli studenti vanno a scuola un po' da tutte le parti in giro per la città di Pesero. Però sta per chiudersi questo momento di ristrutturazione. Quindi questo periodo di ristrutturazione e quindi l'open day. L'open day sono dei giorni in cui il giorno dell'apertura significa. Quindi le scuole aprono affinché gli studenti, i genitori di quelli per esempio delle scuole medie possano entrare, vedere la scuola, informarsi con i professori e quindi in questo caso al Santa Marta l'alberghiero diventa la festa della rinascita perché giustamente faranno vedere una scuola sistemata, una scuola che riaprirà e che potrà riaccogliere con i nuovi laboratori anche tutti gli studenti che adesso stanno facendo un po' di sacrifici insieme ai genitori naturalmente che devono poi accompagnarli un po' a destra, un po' a sinistra. Mi fermo qui. Andiamo a vedere velocemente la pagina di Pesero che parla anche del delitto ferri. I legali per Sabanov e Bari che sono le due persone indagate per omicidio. Sentenza emotiva. Gli avvocati hanno depositato la richiesta di appello e chiedono tre perizie. La condanna appoggia su indizi. E poi si parla anche di pericolo ghiaccio, spargisare mobilitati. Un'auto finisce fuori strada sul Monte Labattese. Tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci a domani.